A parte la vittoria non è contento affatto specie degli ultimi 20 minuti e anche secondo me dell'espulsione in Genova di Guerrisi. Sì, quella di Guerrisi è una toppa clamorosa, se tu sei ammonito e vuoi fare falla al centrocampo, non lo so, anche se un giocatore generoso che non molla mai, che recupera 100.000 palloni, deve vincere il mestiere. Sul secondo gollo tu hai detto che sei stato benevolo nel suo confronto di 20 minuti e noi abbiamo giocato 10 minuti solo al secondo tempo, sbagliando ancora con Leo a tu per tu col portiere. Se tu queste partite non le chiudi mai, siamo costretti sempre a soffrire. Di converso c'è stato un grandissimo primo tempo, secondo me, dove abbiamo spianato ripetutamente il raddoppio e lì si vedono tutti i nostri limiti, caro Peppe, perché tu la squadra ce l'hai all'angolo, la squadra è avversaria, devi chiudere la partita. Perché poi è chiaro che c'è la possibilità di una ripresa della squadra, tu la lasci viva, la squadra è chiaro che, come nell'episodio del rigolo, te la poteva cambiare. Il portiere è fatto anche per questo, bene il primo tempo, per il secondo tempo tutto da cancellare. L'allenatore Ferri, quest'oggi è stato in panchina in quanto Gian Domenico Condello era squalificato, ma sappiamo che lavorano in sintonia. C'è il rammarico per il rigore mancato? C'è il rammarico per tutto, non solo per il rigore. Il rigore è un episodio, poi c'è stata sulla ribattuta, potevamo fare gol. Un'altra azione con Moio che ha colpito il loro difensore sulla schiena, subito dopo Grisalli poteva andare più convinto a fare gol. Nicolas Ainz, l'argentino, ha calciato bene, ma Gabriele Parisi li ha fatto una grande parata. La squadra però si è svegliata solamente nel momento in cui il vocale è rimasto in dieci. Possiamo dire che si è svegliata perché è rimasto in dieci, oppure poi la volontà, la voglia di poter raggiungere il pareggio ha fatto il resto? Io penso che qualunque squadra si svegli dopo aver subito un gol, sia che resti in dieci la squadra avversaria oppure che resti in undici. Il problema è stato che nel primo tempo abbiamo avuto il vento contro a sfavore. Non credo che abbiamo subito molti tiri in porta, o penso neanche uno, tranne il gol che hanno fatto loro sul calcio d'angolo. Ottimo schema e un ottimo inserimento di Pasquale Brancati. Nel secondo tempo ovviamente loro si sono difesi perché erano già in vantaggio, noi dovevamo spingere un pochettino di più. Ecco perché forse si è notato il fatto che siamo usciti alla lunga e invece loro si sono difesi. Ma credo sia legittimo che quando una squadra va in vantaggio pensa più a difendersi anziché a offendere nuovamente.